Il Presidente del Consiglio regionale prima di me e con me ha presieduto tavoli di lavoro di diverse regioni che hanno aderito al progetto Parcovie con le quali abbiamo condiviso un protocollo d'intesa che ha portato alla realizzazione di un vero e proprio catalogo su come realizzare le Parcovie che è oggetto regione per regione della capacità di finanziamento e di realizzazione dell'opera ovvero ritracciare materialmente il cammino, infrastrutturandolo ovviamente, rendendolo fruibile senza disturbare il transito e l'attività delle greggi e dei pastori per arrivare dove? Per arrivare al riconoscimento materiale della transumanza quale patrimonio dell'UNESCO. La nostra tradizione, le nostre identità e la nostra cultura che vengono sottolineate facendo conoscere tanti luoghi piccoli e grandi della nostra regione tante bellezze e il tutto la porteremo in una grande platea che è quella della Capitale d'Italia per la manifestazione conclusiva che si intera il 7 ottobre. Attendiamo la possibilità di avere la nostra programmazione regionale con il Fondo di sviluppo e coesione per poter finanziare in accordo con le comunità locali e la sovrintendenza un passaggio di progetto preliminare puntuale, tratto per tratto, dove ce n'è bisogno perché in gran parte il tratto è già fruibile e vincolato dal paesaggio. Grazie.